Ma può capitare una giornata no dell'abito, però può capitare una giornata no nel senso a livello tecnico, ma questa ha perso proprio la testa, questa ha perso proprio la partita da gestire molto facile, non è stato capace di gestire dei momenti particolari, dei momenti difficili della partita e penso che non si può mandare un abito così giovane a una partita così importante, è che uno si gioca il passaggio di turno della Coppa Italia, penso proprio che non si può, però purtroppo questi sono gli arbitri e questi ci dobbiamo purtroppo assorbire. Io ho detto l'anno scorso, avevo detto che c'era la terra abitrale siciliana, che c'erano certi bravi e certi che secondo me dovevano essere retrocessi in promozione, oggi quest'arbitro secondo me, dal mio punto di vista, questa non merita nemmeno di arbitrare in promozione perché non c'ha né testa né piedi come arbitro, sinceramente, proprio è stata una partita a senso unico e credo che oggi abbiamo pagato le conseguenze con due espulsioni dei giocatori e tre, voglio dire tre, due in campo, uno dalla panchina, uno di sottoscritto e l'anetore in secondo, penso che è stata una cosa fuori da ogni limite, però credo che poi alla fine siamo in un ritardo, oggi si è vista, siamo ancora in ritardo, siamo in una condizione che ancora non ci aiuta, non siamo ancora brillanti e sicuramente dobbiamo ancora sistemare la squadra perché ancora manca cocchetta a sello per essere una squadra competitiva. Credo che faremo degli interventi a breve, penso che non bisogna prendere i giocatori giusti per prenderli, io se prendo qualcuno è perché ci deve venire a dare una mano e ci deve servire e deve fare la differenza, perché sennò è inutile prendere gente che poi non ti dà una mano e si spendono solo soldi. Abbiamo visto che proprio manca il momento di ingranare la quinta, cioè la squadra arriva a certe velocità e poi chiaramente insomma... Purtroppo questa è la condizione che non ci aiuta ancora, manca il cambio di passo, manca quella marcia in più per fare la differenza, però purtroppo manca ancora questo giocatore, spero che il Presidente mi ha messo a disposizione, mi ha detto, mi ha dato ampia carta bianca per prendere qualche giocatore importante, cercheremo di farlo, ripeto, se dobbiamo prendere uno per prendere, io non lo prendo, se devo prendere qualcuno ci deve dare una grossa mano e ci deve fare la differenza, questo è poco ma sicuro. Vittorio, partita come dire di Coppa, prima volta davanti al proprio pubblico, lo stadio era quasi pieno, bisogna dire che il pubblico si scordia, malgrado un'estate tormentata, ha risposto, questo è bello. Io sono contento perché la gente ha capito, veramente ha capito finalmente che bisogna stare vicino a questa società e a questa squadra, lo stanno dimostrando, l'hanno dimostrato fino ad oggi e credo che continueranno a venire, a sostenerci e a darci una grossa mano, questo pubblico a noi ci può aiutare ma non solo come incitamento ma anche come risorse economiche perché comunque la gente sta rispondendo, voglio ringraziare quei 300 abbonati che hanno avuto grande fiducia nella società, nel Presidente Carlo e sottoscritto e tutto lo staff organizzativo perché a scatola chiusa hanno fatto un abbonamento, i primi, proprio i primi, i primi 200 che hanno fatto l'abbonamento a scatola chiusa e sono stati quelli che hanno creduto e credono fortemente nel nostro lavoro, io sono contento e li ringrazio sia quelli che l'hanno fatto subito che quelli poi dopo successivamente e spero che continueranno a fare gli abbonamenti perché entro fino al 9 settembre e ci sarà aperta la compagna abbonamenti. Niente, per quanto riguarda poi oggi la prestazione abbiamo fatto una buona partita rischiando poco, abbiamo rischiato solo quando siamo rimasti in 9 uomini perché giustamente avendo 2 uomini in meno diventa pesante, però in 9 uomini abbiamo avuto quella palla-golla di Provenzano che se ci crede e se la tocca quella palla, la tocca appena, va in porta e facciamo gol anche in 9 uomini. Il calcio è questo, purtroppo abbiamo affrontato anche una signora squadra, comunque una signora squadra, il Paternò ha dei giocatori importanti, oggi si è visto comunque dietro hanno dei buoni giocatori, il centrocampo, una rosa compatta, unita, una rosa competitiva, perciò non è che abbiamo affrontato una squadra così che va per la salvezza, una squadra che punta a fare un campionato importante e da martedì penseremo a preparare bene la prima di campionato che è domenica, aspettando il calentario che penso che uscirà il giorno 5. Grazie direttore, grazie. Grazie a te.